Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, come sempre e come al solito, vi ricordo di seguirmi su Instagram e su TikTok, mi raccomando, ai link che trovate qui sotto in descrizione. Dunque signori, oggi sono qui con questo breve video per parlarvi però del futuro del Marvel Cinematic Universe. Perché nei giorni scorsi il buon Kevin Feige, durante un'intervista su Total Film in occasione dell'imminente uscita di Thor Love and Thunder, ha dichiarato che nei prossimi mesi sapremo con certezza quale sarà la prossima grande saga del Marvel Cinematic Universe. Vi leggo quindi prima la sua dichiarazione e poi la commentiamo. Mentre ci stiamo avvicinando alla fine della fase 4, penso che le persone inizieranno a vedere dove sta andando questa prossima saga. Penso che ci siano già stati molti indizi, che almeno per me sono evidenti, su dove questa intera saga stia andando. Ma nei prossimi mesi saremo un po' più diretti a riguardo per stabilire un piano, in modo che il pubblico che vuole vedere il quadro più ampio, possa vedere anche un minuscolo pezzo di quella che sarà la tabella di marcia. E ragazzi, considerando quello che ha detto Kevin Feige, ovvero che ci sono degli indizi parecchi evidenti, e andando a prendere tutto quello che abbiamo visto finora, per me l'unica grande saga possibile, esplorabile, è Secret Wars. E per me non c'è neanche tanto da discutere, è Secret Wars e sarà Secret Wars. Tra l'altro Feige ha confermato che la cosa verrà confermata nei prossimi mesi, e io ci punto dei soldi adesso, che tutto ciò avverrà al D23 Expo, che si terrà 9, 10 e 11 settembre. Che è questa mega conferenza Disney che si tiene ogni due anni, e più nello specifico vi dico già che il panel del Marvel Studios si terrà di sabato, a partire dalle 7 e mezza di sera, e ovviamente la seguiremo in live. Mi aspetto l'annuncio lì diretto del prossimo film degli Avengers, che sarà appunto Avengers Secret Wars. Per diversi motivi anche per me parecchio evidenti, ovvero il primo è che abbiamo i multiversi ragazzi, i multiversi possono portare solamente a questa cosa qui. Io l'ho sempre detto fino a quando hanno annunciato il titolo del secondo film di Doctor Strange, ovvero nel multiverso della follia, non possono tenere il multiverso aperto a vita, è troppo pericoloso ed è difficile da gestire, infatti finora l'hanno gestito un po' a cazzo. Per me hanno aperto i multiversi per tre motivi principali, il primo ovviamente è ad andare a creare la Secret Wars, il secondo è far tornare in vita eventualmente personaggi morti, come potrebbero essere Vedova Nera o Iron Man, non credo che torneranno a Bredani Junior, ma facendo ciò che hanno fatto finora con i multiversi potrebbero prendere un Iron Man da qualsiasi altra realtà, comunque riportarlo tranquillamente all'interno dell'universo classico, oppure introdurre quei personaggi che sono un po' più problematici da far spuntare fuori a caso adesso, come ad esempio i Mutanti o magari Deadpool, che abbiamo già visto in due pellicole e in un'altra realtà, potrebbero trascinarlo tranquillamente nel Marvel Cinematic Universe. Il secondo motivo, e anche quello più palese, secondo me ci arriva da Doctor Strange del multiverso della follia, nella seconda post-credit, anzi nella prima post-credit, quella dove vediamo Charlize Theron nei panni di Clea, la sentiamo dire a Strange che c'è stata un'incursione, le incursioni sono tutto ciò da cui parte la ranna fumetti di Secret Wars, ovvero l'incursione avviene quando due universi paralleli, due realtà parallele, si scontrano tra di loro e ne sopravvive solamente una. E sentire citate le incursioni lì a me ha fatto drizzare le antenne ovviamente, pensare subito a Secret Wars. Tra l'altro sono stracontento perché a me questa run è piaciuta veramente un botto. Run che tra l'altro è servita al mondo dei fumetti della Marvel per annullare tutte le realtà parallele, hanno fatto praticamente implodere tutto quanto, se è tutto fuso nell'universo classico e così facendo anche in quel caso si sono tenuti solamente i personaggi più carismatici dalle varie realtà, per esempio Miles Morales dall'universo Ultimate o vecchio Logan da Westland. E secondo me è una cosa furba e sicuramente andranno in questa direzione. Io ve lo dico già adesso, mesi prima, mi aspetto l'annuncio di Avengers Secret Wars direttamente al D23. E inoltre l'altra strada che sicuramente percorreranno, che però non è da intendere come grande saga, sono gli Young Avengers. Ce li hanno introdotti già un po' fino adesso nei film e nelle serie TV, tra l'altro in Antony and the Wasp 3 vedremo che C. Lang sicuramente acquisirà i poteri. E poi anche in questo caso non mi stupirei per niente di vedere un annuncio di una serie o di un film sui Young Avengers al D23. Sicuramente poi farò un video a riguardo sulle mie previsioni, però lì mi aspetto la conferma della serie o del film sui Thunderbolts, la serie o il film su Daredevil e così via. Aspettatevi un D23, bello carico di annunci, soprattutto dopo le parole di Kevin Feige. Ragazzi, io sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, se siete d'accordo con la mia opinione, soprattutto se avete letto Secret Wars e se vi è piaciuto. Tra l'altro questo è il nuovo mega formato giant che ha stampato panini, io ce l'avevo in brossuratini, però ho deciso di ricomprarlo così, anche perché le tavole sono veramente una bomba. Ragazzi, quindi fatemelo sapere con un commentino qui sotto, in descrizione mi raccomando. Io tra l'altro vi lascio anche il link di questo volume di Secret Wars che tra l'altro è ancora disponibile, anche se credo rimarrà online per poco, perché ogni volta che vi linko qualcosa fate finire nel giro di tre secondi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su vari social e noi come sempre come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao!